buongiorno a tutti sono il vostro svaldo questo è il bottino di oggi abbiamo raccolto delle bellissimi bellissimi funghi adesso ve li presenteremo ecco qua abbiamo praticamente dell'actarius sanguineus qua abbiamo delfinarolo ovvero il polcino che cresce sotto i fini poi abbiamo qua il quello del cisto poi spostandoci più la possiamo vedere anche i gallinetti gallinacci come vengono chiamati così poi c'è la la ramaria flava che è quel fungo a forma di capofiore diciamo abbiamo una bella antunna un tipo di antunna particolare che c'è dove c'è molta avudità e poi le trombette dei morti che sono fantastici e fantastiche anche a presentare insomma a gente che non sta tanto bene e niente e vi saluto ciao a tutti e alla prossima